La mente umana è una macchina generatrice di esperienza, cioè noi abbiamo, stamattina per venire qua con voi, ho fatto un piccolo collegamento con un convegno sull'intelligenza artificiale e mi sono permesso di dire che il termine intelligenza artificiale è uno simolo, in primo luogo perché l'intelligenza artificiale non esiste, nel senso che perché la parola intelligenza debba avere un senso, deve avere nel suo etimo la parola intelligere che vuol dire intusligere, che vuol dire leggere dentro, quindi non ci può essere intelligenza senza autocoscienza e siccome i sistemi di silicio non sono mai stati in grado, dai tempi di Turing, di Wiener o degli altri profeti o pseudo profeti dell'intelligenza artificiale, di generare dei sistemi esperti autocoscienziali, se non nelle fantasie di Stanley Kubrick di 2001 di Se nello Spazio, ma non si è mai visto niente come Al fino ad ora, ma perché non è tecnicamente, non solo perché non è tecnicamente possibile, ma perché noi non siamo in grado di riprodurre artificialmente la coscienza per il semplice fatto che neppure sappiamo cos'è la coscienza umana, non solo come si genera nel rapporto tra hardware e software, ma neppure che cos'è? Tutto questo naturalmente ci porta ad interrogarci sui limiti del linguaggio, perché anche la parola intelligenza, la parola artificiale, la parola software, la parola neurone, la parola sinapsi, la parola inconscio sono parole e quindi pensare di descrivere con le parole la coscienza è come pensare di sollevarsi da terra tirandosi per le stringhe o per le bretelle e quindi non è un problema di un limite tecnologico, ma è come l'illusione del barone di Munchausen che nel suo mennota leggenda pensava di poter volare tenendosi per il codino e questa è la ragione per cui l'intelligenza artificiale semplicemente non fa paura perché non esiste, ci sono dei sistemi di calcolo sempre più complicati che potranno servire a aumentare il controllo sugli umani da parte però di altri esseri umani, questa è la cosa veramente spaventosa, non che ci sia un'intelligenza artificiale che si dota di emozioni, di autocoscienza che ci scappa di mano come nelle loro fantasie, ma purtroppo dietro quelle finte intelligenze artificiali ci sono intelligenze umanissime e spesso molto malvagie. Guarda, su questo argomento sì, poi sentiamo anche Alberto e Vanni, volevo dire che sulla questione cosiddetta intelligenza artificiale ne abbiamo parlato a lungo e ne parleremo ancora perché sarà uno degli argomenti di questo futuro che tanto voglio dire di puttanate ce ne devono già mettere sul tavolo tante, questa serve un po' anche a distrarci, perché a giocarellare con questa roba ci si gioca, adesso c'è gente che già si è tutta infoiata su questa storia. Noi al contrario faremo come al solito, noi siamo un emittente radiofonica e anche televisiva oggi, ma in realtà siamo la radio, la radio da quando è nata è stata ed è la forma di comunicazione più dinamica, più vicina alle persone, più di compagnia e che non morirà mai. Quando nacque la televisione dissero la radio è morta, morirà, no, non è stato così, poi quando è arrivata la rete, idem, oggi ancora con tutti i player ipermiliardari, supermiliardari del mondo che stanno cercando di scalzare la radio, cercano di fare tutto l'altro, non ci riescono, perché? Perché dietro alla radio cosa c'è? Una radio come Radio Radio ovviamente e ce ne sono anche altre, per fortuna non siamo soli, dietro la radio cosa c'è? Dietro alla radio ci sono persone che hanno l'intelligenza e quindi volevo spoilerare il prossimo claim di Radio Radio, che credo oggi stesso potremmo licenziare, che sarà ed è Radio Radio, intelligenza naturale, perché proprio vogliamo sottolineare il valore dell'intelligenza naturale, ovvero dell'intelligenza, perché l'intelligenza come ci ha spiegato bene poco fa Alessandro Meluzzi, il professor Meluzzi non potrà mai essere artificiale, perché quelli sono software programmi che rispondono alle logiche, agli algoritmi, alle equazioni, ai comandi di chi li ha programmati. E quelli che dicono, eh sì ma poi imparano, proprio sono stati programmati per imparare, sì ma sono sempre stati programmati per imparare e per rispondere come vuole il programmatore che risponda. E poi essendo software, e qui lo dico da professionista di questo settore, è evidente che nessuno di noi può mai sapere all'interno di quel software, se c'è un'istruzione che comunque ha il comando di qualcuno che può risiedere in qualsiasi parte del mondo e anzi direi del sistema solare, perché certe cose le puoi anche comandare a distanza, e poi gli fa fare quel qualcosa che lui ha deciso che faccia sulla base della programmazione che è stata fatta, che noi non sapremo mai. Quindi affidare la nostra conoscenza, le nostre decisioni, i nostri piaceri, addirittura le nostre emozioni a una macchina programmata da altri, come dicono oggi i giovani Vanni, anche no. È una frase brutta, a me non piace, però qui così capiscono tutti. No, mi dispiace ma questa cosa non ci può stare. Alberto? Ma su questa questione io devo dire che l'altro ieri ho avuto la fortuna di stare un paio d'ore a tu per tu con il professor Faggin che è qua in Italia in giro per delle conferenze, oggi alle due c'è un convegno dell'MIT a Milano dove andrò ovviamente, e devo dire chiacchierando e parlando fra di noi, mi ha messo in luce un punto che dice stranamente nessuno ci pensa, ma gli scienziati affascinati del transumanesimo e del riduzionismo che tutto sta in questo cervello piuttosto che in un computer, non vogliono parlare della coscienza perché per loro sostanzialmente sostanzialmente è un problema che non esiste, quindi non ne vogliono parlare perché quando si parla di intelligenza artificiale si parla di dati che vanno e che vengono, ma i dati sono dati, sono tutto sommato delle cose amorfe, a parte che andrebbero poi interpretati, ma soprattutto lui dice manca il significato, il dato senza significato non vuol dire nulla, dice peccato che a questo punto la scienza che ci ruota intorno non ne vuol proprio parlare, non si pone il problema e quindi si limita a quella che gli ingegneri chiamano l'informazione di Shannon che era quello che aveva stabilito che l'informazione sono i dati che noi ci passiamo, ma i dati restano, ripeto, delle cose amorfe e anche dal punto di vista del marketing si dice ah il futuro sarà dei dati, tant'è vero che gli anglosassoni parla di un mercato data driven, cioè pilotato dai dati, ma i dati se tu non li interpreti non sono una commodity, sono una roba che può avere chiunque, l'algoritmo non è altro che un ammasso di dati, un ammasso di dati che lavora appunto come hai detto tu a seconda di come è stato, quindi è paradossale che sul concetto di fondo per cui esiste qualcosa di superiore che ti consente di avere prima di tutto la coscienza di te stesso e contemporaneamente di avere il libero arbitrio, cioè di capire cosa fare di questi dati, una macchina non lo potrà mai fare, sono delle cose talmente semplici, una volta spiegate così anche in soldoni, che non si capisce come mai così tanta gente vada dietro a questa fata morgana senza farsi queste domande, quindi benvenga questo magnifico fisico che sta girando all'Italia in questi giorni per promuovere il suo libro che pensate, credo io gli avrei dato anche una grossa mano, ha già superato il 40.000 copie che per un saggio diciamo tecnico è veramente tanto, si chiama il riducimento. Bene, lavoreremo insieme qui a Radio Radio, insieme a te magari per intervistarlo subito. Oggi glielo chiedo. Su tutto questo, bene, io aggiungo a quello che dice Alberto un altro dato, che è il dato del tecnico voglio dire, che è nella sua banalità inconfutabile, cioè basandosi sui dati, se noi basiamo la nostra vita, la nostra esperienza sui dati e non sull'intelligenza naturale, quella che abbiamo tutti, quella che madre natura ci ha fornito, mettiamo nelle mani di chi ha i dati, di chi conserva i dati, di chi mantiene i dati, uno strumento potentissimo di potere, perché al di là del fatto, se gli algoritmi poi possano contenere codice malevolo che quindi può essere azionato, modificato da chiunque in qualsiasi parte del globo terrestre e addirittura di tutto il sistema solare e forse anche oltre, va bene, ha proprio piacimento per indurre i popoli a credere a una cosa piuttosto che a un'altra. anche chi possiede i dati ha questa possibilità, per cui noi abbiamo, delegando la nostra vita ai sistemi digitali, noi abbiamo sostanzialmente alzato il livello di rischio che tutto questo si traduca in un dominio nei confronti delle classi più deboli, ovvero di quasi tutta l'umanità a parte quella piccola elite che Alessandro ci ricorda sempre con grande puntualità e precisione. E quindi, attenzione, perché quello che ha detto Alberto, che è correttissimo, a questo vanno fatte altre considerazioni di carattere tecnico, e cioè che i dati sono quanto di più insicuro possa esistere, perché sono tenuti da qualche nerd brufoloso, come diciamo noi nel nostro, va bene, che sta lì e che può cambiargli su ordinazione, dice ma no, ma le chiavi e poi anche tutte le catene, tutte le chain, le varie chain declinate in vari modi per la sicurezza, ragazzi non vi fate incantare da queste supercazzole, è ovvio che tutto quello che è digitale può essere modificato sia dalla fonte che dopo che in tutte le altre estensioni. Ed è inutile che noi diciamo, ma c'è la sicurezza, noi abbiamo visto violate anche le PEC, abbiamo visto violati i siti della NASA piuttosto che altri, tantissime cose che ovviamente quando ci scontriamo con dei dati, con dei bit, sono assolutamente possibili, fattibili. Quando avremo un po' di tempo, magari quest'estate, con un attimo di calma dalle notizie della quotidianità, noi qui con una nostra lavagnettina per chi vorrà seguire, sarà una rottura di palle, ma chi vorrà lo seguirà, faremo delle brevissime lezioni, semplici ma anche, voglio dire, brillanti, cioè non la classica rottura di palle del professorino che è, no, lo spiegheremo bene come funziona l'informatica, ma di base, così che tutti possano capire perché quello che io sto dicendo è assolutamente inconfutabile e che quindi, passando per il digitale, mettiamo nelle mani di poche persone la possibilità di farci credere pure che gli asini volano.